che giornata è stata? Quanto hai sofferto? A un certo punto ti abbiamo visto fuori dal campo correre avanti e indietro, seguivi la partita come stessi giocando, poi un'esplosione incredibile. Sì, la sofferenza è stata tanta, però mi sentivo di dare qualcosa anche da fuori al campo a tutti i miei fratelli qui presenti e questa vittoria è solamente un scambio a noi. Un capitano! C'è solo un capitano!